ciao a tutti ragazzi sono ariel82 questo è il mio canale come al solito andiamo a vedere un nuovo dispositivo rams 1.4 di amazon amazon prime costo 25 euro allora velocemente rams 1.4 possibilità di installare il nuovo firmware marlin 1.1.9 mega 2560 r3 human 5 driver inclusi a 4988 più il dissipatore che si può montare su un display full graphics 12864 e tutti i vari accessori per farlo funzionare adesso andiamo a vedere come è composto come ci arriva questo lo scatolo semplicissimo questa è la marca che dovete cercare ok allora questi sono i driver non buonissimi però per 25 euro 5 driver cavetto usb qua c'è il nostro arduino non sarà un arduino originale ma sicuramente compatibile mega 2560 ok qua abbiamo la rams arrivato qui vanno collegati driver sono 12345 abbiamo i vari estrusori le ventole e l'alimentazione poi successivamente vedremo come vanno montati driver e tutto il resto fanno con i diversi di 2012 e poi con il vari sottotolo e l'alimentazione poi avviamo a vedere come avvamo montati driver e il testo che è davvero la rams dell'alimentazione poi che si va a vedere come avvicinare l'alimentazione ovviamente prendiamo il rapporto di usb 12864 tasto di reset rotellina che poi sarà sicuramente con 4 confezione doppio attacco ingresso sd non micro sd sd ok ok rotellina sentite fa anche il flick ok ritorniamo attacco questo qua è per la ramps questo va così esattamente qui e qui va a bloccare ecco qua i due cavetti che poi vanno collegati tra la ramps e il display i due cavetti sono andiamo un attimo uguali e identici quindi dobbiamo vedere sul display poi uno andrà uno andrà da una parte e uno dall'altro dovrebbe essere questo il display credo credo ok driver senza che diamo l'abbiamo visto driver è dissipatore ok questo è tutto il kit al completo il link ve lo lascio su amazon questa è stata una recensione velocissima un attimo solo qui abbiamo anche i morsettini che che utilizziamo per per collegare quindi è tutto ok ok ragazzi per questa volta abbiamo finito ci vediamo al prossimo video dove vi spiegherò come installare marlin 1.1.9 su questo tipo di dispositivo e vi lascerò anche il file config così magari già chi è che non vuole farlo già ce l'avrà bello che è fatto solo da flashare ok ragazzi iscrivetevi al canale per gli aggiornamenti attivate la campanella alla prossima